Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto auguri di buone feste, Natale, me è già passato, ma volevo almeno salutarvi prima della fine dell'anno, augurandovi di iniziarlo al meglio. Un po' di mal di gola, quindi per me non potrebbe essere lo stesso, ma come si suol dire, vb. Quindi probabilmente sarà molto più breve del solito e fortunatamente il mazzo in questione non necessita di troppe spiegazioni. Oggi, come vedete, è un'altra delle decklist che mi sono state chieste, che mi avete chiesto voi, e nello specifico il Frog Monarch tradizionale. Prima di iniziare però a realizzare il mazzo, faccio la mia solita introduzione. Se siete nuovi del canale e non sapete da dove cominciare, sono Destiny, o qui comunemente conosciuto come Stardust, come preferite chiamarmi insomma, e mi occupo principalmente appunto del formato in questione, e in futuro spero anche del formato Tengu Plant. Ho realizzato una guida introduttiva al formato Edison, in cui vi spiego in maniera molto semplice come muovervi all'interno del formato, che troverete qui in alto a testa e qui sotto in descrizione. Se avete domande o richieste in particolare, come appunto quelle decklist che sto portando ogni tanto sul canale, potete scrivermi tranquillamente qui sotto nei commenti o direttamente su Facebook. Tornando a noi, se il mazzo è in questione, ossia nel Frog Monarch, ci sono un sacco di versioni, ce ne sono svariate. Dalla lista che sfrutta il reparto piante Quickdraw, alla versione che utilizza i Malisius Edge, la versione con Hero Classica, oppure quella che io chiamo Dark Hero Monarch, che, in caso che foste interessati, ho già caricato qualche tempo fa qui nel canale. Vi lascerò magari il link direttamente qui in descrizione, e ho anche direttamente qui sotto nei commenti. Senza perdere altro tempo, vabbè, andiamo abbastanza spediti, come vedete il reparto rana è abbastanza classico, abbiamo tre di queste, tre di queste, le due ovviamente Triborn Frog, e due Deep Frog che ci aiutano anche a fare la lock combo, vado a darci un altro mostro rana, non so, alla mano, eccetto, vabbè, le stesse. Per il reparto Monarcha abbiamo invece tre Kaios e tre Raiza, che sono, secondo me, molto molto forti in formato, sono, diciamo, un'esplosione a Lidia Fenice sotto forma di super Tributo, e poi gioco due Testalos per quanto riguarda i Monarchi. Allora, alcune liste, almeno della versione tradizionale, ne giocano tre. A me piace a due perché? Allora, giocarlo Monopair non mi piace tanto perché c'è una scarsa possibilità che arrivi in mano. Secondo me questa è una carta che ti deve venire subito, appunto, in mano, sperando che tu vada a iniziare per primo, e in particolare contro i mazzi che settano tanto, tipo Hero Beat, non lo puoi sfruttare al massimo, dato che appunto fa Hero Beat di solito è evoco setto 4 o 5, quel che è, quindi rimane un po' appeso. A tre appunto, non voglio vederlo troppo spesso, secondo me a due è il numero giusto per questo genere di carta, che, ripeto, diventa molto forte nel momento in cui inizi anche per prima, quindi è una partenza molto molto forte. Continuando con i mosti per Tribute, abbiamo il Darkta Spirit, che per me è sempre una carta molto sottovalutata. Qui è uno Spirit, non può essere evocato specialmente, durante l'end face, vabbè, se viene evocata normalmente o per scoperta, ritorna in... però nel momento in cui viene evocata normalmente o viene... evocata per scoperta, viene scoperta, scusate, distrugge tutte le carte mostro avversari scoperte sul terreno, che non è, diciamo, così bad. Poi gioco Mono Jinso, dato che ci sono svariati mazzi che utilizzano un... corposo reparto trappolo e secondo me Jinso è quella carta un po' unexpected di main. Più o meno per la stessa logica gioco anche il Vanity's Fiend, almeno uno di main. In caso che appunto non dovessero piacervi uno dei due, potreste fare anche due Vanity's Fiend e Jinso lo portate direttamente di side, viceversa due Jinso e giocate il Vanity's Fiend. Secondo me uno e uno non è male, oppure potreste anche ridurre il numero dei Thestalos che giocate nel mazzo, però appunto vi ho spiegato più o meno qual è la questione. E per proseguire invece, fra gli altri nostri contributo, il Light and Darkness Dragon. Ho visto altre liste che lo giocavano anche a tre, questo vestione, a me è una carta che piaceva un sacco, però non lo so, mi è capitato un sacco di volte giocando a tre di piccare un bel po', quindi l'ho portato a due, a due non mi piaceva nanché, quindi l'ho portato, diciamo, a uno. Io onestamente mi sto trovando molto molto bene. Inoltre contro Value Turbo, questo mazzo, diciamo, non è il massimo. Anche contro la nera, nello specifico contro Value stesso, che appunto Value, purtroppo, di costo non si rimuove, quindi ogni volta ti può, diciamo, non è cheating, però ti può dar sopra, nel senso che attiva l'effetto più volte, tu devi indicarlo per forza, e ti giochi il dragone, appunto. Poi gioco tre Battle Fader, perché, appunto, il mazzo un po', potrebbe briccare con questa vasta quantità di monster tributo, ci aiuta un sacco a pararci, e è obiettivamente anche ad avere un possibile sacrificio sul terreno per uno dei nostri ciccioni. e sempre per prepararci un po', aumentare un po' le difese, gioco sia Gords che Tragodia. Tragodia diventa molto più forte se sfrutti anche il reparto tuner, quindi magari ci metti lo zombie ondore e il junk synchron, che non sono affatto male in questa lista. Io, per l'appunto, ho voluto giocare una lista tradizionale, e appunto è la prima che ho conosciuto, almeno quando mi sono avvicinato a questo tipo di mazzo quando ero piccolino, che appunto prevedeva più o meno questi mostri qui. Io ovviamente vi do sempre i suggerimenti durante la decklist, perché obiettivamente sono aperto alle critiche, ai commenti, come vi dicevo prima, sto mazzo lo può giocare in millemila maniere. Quindi, dicevo, è forte con il reparto tuner, dato che può prendere un livello, e parolosalmente Mirror Match può essere anche molto forte, dato che me la butto lì. Carto monarca livello 6, prendo il controllo di un monarca avversario, calo un altro monarca tipo Kaius o Ryza, e parolosalmente riesco a fare un meno due all'oppo, che è fortissima come giocata alla fine. Continuando con le spell, abbiamo tre sull'exchange, e ho deciso di giocare a tre, vanno anche bene a due, però per quel che ho testato io ho preferito giocare a tre, perché effettivamente è una carta che vorrei vedere spesso in mano e appunto mi aiuta a briccare meno. Poi altre carte di difesa o di control sono l'enemy controller, appunto, come suggerisce il nome, e non voglio chiamarla Tetch, però noto che questa carta non è tanto giocata, a me piace un sacco questo mazzo, che è lo scambio creature, molto forte, brain control, che, vabbè, si commenta da sola, è la carta da cui perdo sempre, almeno io. Pot of Avaris, come monopair, non due, e semplicemente per questione di slot, ho preferito giocare a 40, a suo giro, se volete giocare a 41, magari, siete un'altra Pot of Avaris, o togliete una sull'exchange, e ci giocate la seconda Pot of Avaris, poi Evistore, Typhoon, e One for One, che si può dire che anche questa si commenta da sola, e infine come trappola, il, la trappola è insidioso, mi pare sia in italiano, e appunto, dato che non giochiamo troppe carte trappola, è una carta molto interessante. Prima di proseguire con l'extra, andrei direttamente con la side, così vi faccio vedere alcune carte, che secondo me potrebbero essere, forti, che poi alla fine sono due, quelle diciamo un po' più, particolari, vabbè, i sapi e i drago sono un po' classiconi, i ddcrui, ma ti sfinde per il motivo che vi ho detto prima, così come Ginzo, poi è una tech che secondo me è molto carina, grazie a Doering Book, e l'Ark Seamorg, che a me è una carta che a me, vabbè, piace un casino per l'artwork, cioè tutte le vele, l'Arkhorus, l'Ark Seamorg, la Fenice Sagra di Tentis, con l'Oscura, sono fighissime, e secondo me potrebbe essere una tech molto interessante, anche perché, appunto, sfruttiamo i Raider, sono mostri, mostri vento, e di Dark ne abbiamo in abbondanza, come potete vedere, e cosa fa sto bestione? Praticamente, non permette all'avversario di settare carte, cioè, se a me è una carta molto interessante, così come, la super polimerizzazione, e appunto, sfruttando un reparto acqua abbastanza vasto, ossia tutte le ranocchie, contro Kiro, diventa una carta molto, ma molto, forte, in più, potenzialmente, potremmo accedere, oltre che ad Absolute Zero, a Gaia, grazie al, Tacta Spirit, dato che, il nostro amico, di tipo, di tipo terra, poi gioco tre Twister, perché, diciamo, la carta che dà più fastidio a Monarca, obiettivamente, è, la, Mask of Restrict, che appunto, non vi permette di, tributare carte, quindi, potreste giocare, almeno, credo, il tre per di queste, o potreste optare, per questa carta qui, il Trappiter, mandato una carta trappola, continua, dell'avversario, al cimitero, evocate special, sto coso, è un 1.9, ma soprattutto, è un, suo tuner, quindi, vi dà anche accesso, a, reparto, reparto, sincro, ovviamente, me ne ho messo giù, qualcuno così, a, random, qui, ve li faccio sempre vedere, in maniera molto, molto veloce, poi vabbè, gli Absolute Zero, e i Kill, che era tech, una carta abbastanza forte, appunto, la Berseria viva a fare, Mask of Restrict, l'unico altro pericolo, obiettivamente, però, potrebbe essere il Fog King, che, cioè, ciaune, e poi, per finire, il Deck Devastation Virus, dato che, appunto, come dicevo prima, il reparto Dark, è abbastanza corposo, quindi, possiamo, sfruttarlo per bene. Io, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta, per aver guardato il video, a questo punto, scusate il mio autovoce, ma, purtroppo, appunto, ho un po' di, come dicevo, riesco a parlare più di tanto. Se avete altre decklist, su richiesta, oltre a quelle che mi sono state richieste, per l'appunto, che sono tipo il Masso, di Google, poi vabbè, ho in coda il, il GB, e, l'Opless Dragon, che prima o poi, vi prometto, vi porterò in Rio, almeno questi due. Vi auguro ancora una volta, buon anno, buon epifania, caso che non dovesse caricare un video, per quel giorno lì, e arrivederci al prossimo video. See you next time. Grazie. 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 Grazie.